Lasciate mi piace se pensate che la scorsa Champions del Real sia immeritata Lasciate dislike se pensate che sia meritata Like, 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 like Bene ragazzi, carichi come non mai da FuseGamer Oggi ragazzi siamo qui su un campo da calcio In Villelizza No, è cambiato Siamo al centro sportivo Real Casarea 2006 Quindi ragazzi, tutto è info in descrizione per questo campo fantastico Ma prima di partire con questa tedesca vi diciamo che è versione Champions League Come vedete tutte le squadre qualificate, non ci sono tutte però la maggior parte Di quelle là più forti come il Napoli Quindi chi vincerà, vincerà la Champions automaticamente Esatto Ma chi c'è in questo video però insieme a noi oltre gli elizio Dovete iscrivervi solamente di quelli che vedete al canale di Simone Crispo Deve arrivare a 10.000 iscritti Ma noi ci perdiamo in chiacchiere Andiamo Harry già sai L'ultimo che te ne ho attraverso la ricorda L'ultimo che te ne ho attraverso la ricorda Quindi Aleva in porta con 9 punti Tutti gli altri a 7 Bravo caraco Let's get ready to rumble Stai dentro all'aria Oh mi sembra che lo sta bene Simo Vai vai Troppa pressione Antò Manca l'Antò No Antonio in calciavaccio medesche Questo non ho notato di tanto i miei video Ma è sì Ma è sì Ma è sì Ma è sì Sì Ah ti faccio 5 Ah Ti avevo preso a caccia Ah Chiedi scusa Chiedi scusa Che è stato crato Chiedi scusa Eh se poteva Bello Ciao 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 Antò Ciao ciao Senta una porta più grande Vai Simo Primo gol dopo 6 minuti di livello Bravo Grazie ragazzi Vai dai Accalciate Ma cazzo la tiro No Andre No Andre No Andre No Andre No Andre Oh Liverpool Porta la dendere Oh torretta Dai Andre Il mancino lo uso solo per scendere dal letto Quanto è Andre Messi Dai Che cazzo È infortunio Ma è arrivare Vai vieni Ah Cos'è Meno male che c'è Tati Vabbè Raga Io vado dietro la cam Ciao ciao E' un modo di farli segnare Fa vedere Bravo Oltre balla a Simone Dai Sì Vuoto tutto Grandi passaggi Tutto Vai Henry Ma non puoi dare forza se ti mi costo Vai Henry No Non ci vedo E' buona Lo dedico a te Lo dedico a te Io ho preso il gol No Che bello Non vale Non vale nella porta 1 Dai Di su Alta Alta Bravo 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 Corner Bravo Corner Stati L'attrazione Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Gli scarpetti non Oh 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 No, Mirko, corri però Corri, Henry Hop, hop, hop Anton Oh Oh Bello No 3 vai Anto Grande Simone Crispo E Antonio per la prima volta, erano Solari, viene eliminato per la prima prima nella tedesca Mai successo In Liverpool, lascia così i gironi Liverpool fuori dalla Champions Quindi com'è essere eliminato da Real Madrid come in finale? Beh, bellissimo, un onore alla più grande squadra del pianeta Godo Merde No, Henry 3 a 3 Vai, scalda questa palla Buona La Vai vediamo la seconda Uno Nooo Dov'è Dov'è Scialan? Eeeh Eeeh Chi esce va? Ok, per me verso di te Uno, due, tre Quattro Uno, due, tre, quattro Vai Uwe Vai Ah, bella Vai Vai Bello Bello Ma Luca Oh Non è possibile Camel Eccolo Oh Non ti credo Oh Non ti credo Oh 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 Eeeh Non ti credo Stavo volta Calcio lì Calcio lì Bello Bello Bello, bello Sei sbancatore Venga Vide Napoli contro Juve L'attore di una vita E adesso si va in porta Adesso viene eliminato il Napoli Guardi Eh, ho provato Eeeh Ho provato Uno E' quasi mi spezza No Figliala Eccolo Nuovo No No Eeeh E questa è l'opportunità per eliminare Simone Crispo Esatto Si Ed ecco che E' Omar Come sempre Sprecalo con un'unità E poi c'è Prime Calcio Calcio Aia A 9 punti qua in YouTube da canale Simo ha 9 punti Simo 9,9 Vai Vai Un'unico a 10 Oh 9 to 0 Vendere Pellelle Oh Oh Punto come Briviti Diciamo E' un'unico a 0 E' un'unico a 0 E' ora la lotta tra i shiki Ale Oh Ome ricordiamo 80.000 euro in banca, ecco qui! Emo zero! Diciti tu che Napoli va davanti o che Ziti va davanti? Metti sempre con queste difficoltà! Allora vai! Vado io! Vado io, vai! Vabbè se vuoi così va bene! Andre devi tirare! Va bene! No 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 no! Trispo! Me lo più se! Oh! Roma non tirò più! Che loro Nava! È il 80 milioni! Ehi! Vai Henry! Vieni! No! Vai si vuoi! Ehi Ale! Ehi Ale! Ehi Ale! Dai! Dai! Dai Camel! Vieni vieni! Vai! E' Mico! Cosimo! Scarica va! No! Ma perché non c'ho la madre? Sono le scarpe troppo grandi queste! Io lo so! Ma perché? Si sta... Un punto in meno a testa per... Io lo so! È levo troppo! Andrea mi... Dai! Dai, io dai! Simo... Noo! Si! Bravo! Bravo! Brè o mare! Mi sa che non erano le scarpe Andre Ma come è così? Sì Vai Henry Tira Ma questi sono Manchester City Non contigo da un po' Oh Oh è gol È gol È gol Quando stai a uno Tira la di sinistro Sì sì Simu Hai l'occasione di Redeemer Vai Uno Due Tre Quattro Cinque Vai Oh Simu Siale Simu vai Siale Siale Oh È per te Quara Hai la possibilità di eliminare il Milan Meglio Quara o Leao Ovviamente Quara Parte Ale Parata Non ci credo Aiu non ci credo Vai Andri Beh raga Beh raga Beh raga Teallo contro City Ancora Sbancatore Anche lui Sempre lui Adesso Aiu sono rimasti più forti ovviamente Ma non è calciato dio santo Infatti Come facciamo adesso siamo tutti a Immeritatamente sono in semifinale Però ci sono Certo Vieni qua Facciamo Eh se volete vi scambiate voi ci sono io in finale Vai ci sto Chi vince tra di voi viene in finale contro Ma che c'è? Cioè l'hai pilotata dall'inizio fino alla fine sta tedesca eh E che facciamo eh Non è che cosa è il problema Quale è il problema? Siamo tutti a 1 Fate il tocco chi va forse Allora per me verso di Henry chi va esce 1 2 e te facciamo così A me a te 1 2 3 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Mamma mia Ma di quello è il numero Ma di quello è il numero Non è il numero Ma di quello è il numero Ma di quello è il numero Bravo Henry Voglio in finale E' più credibile però Real Madrid-Milani in finale che Milan-Napoli No io direi il Real o Napoli Henry Eccola Nooo Teo Hernandez Finale di Champions Napoli-Milan Eh di fuori Partita in porta Andre C'è così Nooo Devo battere il stesso rigore di prima Erry fammi segnare Ti prego Amici ultimo rigore se segno o vinto E' il Milan The Champions Terebbe un sogno l'ottava Ottava Champions 8 Champions No questa squadra qua 6 Dove sto? Non c'è Non ci sta Ancuno Ovunque Complimenti Erry Dopo l'ho scudetto anche la scena Che due anni di gloria Veramente magari Ho chiamato Simone Crispo Pur di sconviggere Erry Ma non Ce l'abbiamo fatto Quasi quasi eh Mi sta buttando fuori Però bravo Erry Questo scudetto ti rende invincibile E' il DNA questo ragazzi Quindi applauso Abbraccio Bravo Erry Quindi ragazzi mi raccomando per altre tedesche lasciate almeno 5.000 mi piace e che dire lasciate un bel mi piace un bel commento iscrivetevi al canale Noi si ribeccate nel prossimo video Per un ragazzi Grazie a tutti.